L'azienda è un'azienda nata a Verona nel 1992, diciamo che sono 20 anni che facciamo forni rotanti, abbiamo inventato i forni rotanti per il mondo della pizza, oggi è una realtà perché basta guardarsi attorno, ogni azienda produce forni rotanti, il nostro è anche particolare perché oltre a girare si alza per cercare il calore all'interno della cupola, avere sempre una qualità costante di cottura, questo è fondamentale nella produzione del prodotto. Noi attualmente siamo presenti in 47 paesi nel mondo, l'obiettivo è di espanderci, espanderci più che altro proprio per espandere il nome Italia nel mondo. Il design innovativo di questo forno da dove nasce? Nasce dalla richiesta specifica di un cliente, di un cinese, partito per la pizza, partito per l'estetica, partito per l'ambiente italiano, però voleva un forno diverso e diciamo che è nata una richiesta così, c'è stato uno studio e abbiamo presentato questo modello, è piaciuto moltissimo, tanto è vero che attualmente stiamo montando il quinto forno in Cina, sempre per lo stesso cliente e sempre con il medesimo design. Per quanto riguarda il fiero non è la prima volta che ci troviamo in fiera, però i risultati sono molto buoni, direi superiore all'aspettativa, forse anche merito di quello che stiamo presentando, c'è molta curiosità e il prodotto sta riscuotendo successo, non solo fra l'ambiente pizzeria ma anche fra gli arredatori. Il settore sta andando molto bene perché il settore pizza nel mondo sta prendendo piede sempre maggiormente perché la pizza è un ottimo prodotto trainante dell'economia italiana e anche dell'immagine dell'Italia all'estero.